La rossa, corsia di destra contro John Thomas, Pontek Transam Andiamo? Ok, siamo in categoria A2, 13 secondi Perchè ha paura, la sente intraversarsi O metti a fuoco no, cazzo Se avete visto la difficoltà di partenza, la sua Transam 13.00 da centrare Grande, grande, grande 0.88, ho perso la